Eh, siamo a posto. Ahia. Ciao a tutti ragazzi, siamo di nuovo su Neptune. Adesso andiamo a affrontare per tutto i miei items. Ok, faccio ricomparare anche HP. No, HP. Come cosa facciamo? SP. Ok. E andiamo a fare l'evento. Ok. 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 E' un pochettino, do your best... Vediamo il suo... L'attacco speciale... Ciao! Sconfitto! Livello 11! Sì, è un pochettino... È stato un pochettino... Iniziamo a prendere le nostre, ma... Non è stato un pochettino di chiudere le nostre... E' un pochettino... è molto bene. Come si è stato molto forte, e se mi pensi che se nel momento che neppure si ci vuole per il momento il nostro riposo, non mi ha fatto che il nostro corso sparo, e se i nostri amici, i nostri amici, non vale la pena. Ma, non è la mia, Non è così, 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 non è così. Non è vero che non è vero che non è vero il mio amore. Ma... ma io, non è più triste, ma adesso non è così, non è vero. grazie per me Sì, non è vero, non è vero. Sì. NEPTUNE 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 NO 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 attacchiamo E' un attacco speciale. ...d'acqua di più, non ci sono più... ...d'acqua di più! ...non ho già fatto già, non ci sono mai più... ...e che è un'especiale, non è mai più... ...non ci sono più... ...ma mia bandiera... ...d'acqua... 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 ...che... ...d'acqua... ...non ciò che... ciao ciao dovrò essere finito questo boss sì l'abbiamo sconfitta ma e c'è il livello 11 Non è vero, non è vero. Edo de moni! Quindi si vede a andare a correre! Seppure che ho trovato a neppucono il suo lavoro, potrò che si vede a prendere! ... ... ... ... ... ... ... E' un'altra cosa. Noi! Oh... Ufff... 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 Sì. Scusate ma due a fare un po' tic veloci, ok. Ok ragazzi. Ok ragazzi noi ci sentiamo un prossimo gameplay sempre qua con Napture o con un altro gameplay. Ciao a tutti. Una torre, adesso andremo avanti a fare questa qua. Uno, due, tre. Ok.